Eccoci con Michele Rugo. Ciao Michele. Buongiorno Nicolò, ciao caro, ciao. Grazie della disponibilità a fare questa intervista su un libro particolare che è Alimentare il desiderio, il trattamento istituzionale dei disturbi dell'alimentazione, che hai curato insieme a Massimo Regalcati. Questo è un libro molto importante per tutta la nostra comunità psicoanalitica di IRPA e Jonas e parla anche di un'esperienza molto particolare che è quella della residenza Gruber, che in qualche modo si inserisce in un cammino più che ventennale nell'ambito della cura dei disturbi dell'alimentazione e che hai visto già in altri percorsi te e Massimo Regalcati insieme. Giusto per capire un po', ci dai qualche coordinata per inserirci in questa storia e poi arrivare a questo libro e coglierne il suo significato in un percorso così ampio? Certo. Dunque, questo libro nasce dall'idea della cura dei disturbi alimentari in un'ottica residenziale. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che già con l'esperienza di Villa Miralago iniziata nel 2009, io e Massimo collaborammo, io sono psichiatra quindi sempre come direzione sanitaria di queste strutture e lui come supervisore dello staff, dell'equip che dir si voglia. Tu non sei solo psichiatra, cioè se io ho provato a pensare a qualche parola introduttiva sul tuo profilo, hai detto ma in effetti Michele è polifunzionale, psichiatra, psicoanalista, docente in scuole di specializzazione in psicoterapia, anche all'università e allo stesso tempo hai fatto, credo, un master in Bocconi sul management delle strutture sanitarie. Sono laureato anche in filosofia, sono laureato in filosofia, suoni in gruppo musicale e quindi... Un po' schizofrenico e subeccitato maniacalmente, inevitabile, insomma. Sì, hai una varietà di corde interiori incredibile. Una formazione un po' particolare, diciamo così, ecco. Quindi, ecco, quindi nel 2009 aprimo Villa Miralago dove io feci il direttore sanitario e lui il supervisore e dopo nel 2013-14 è nata l'idea di aprire questa struttura per la Fondazione Isabella Seragno lì a Bologna. Quindi chiaramente essendo una struttura residenziale accreditata con la psichiatria, quindi i nostri pazienti da noi non pagano, non possono accedere privatamente, abbiamo pazienti molto gravi, molto gravi e quindi l'idea di una riflessione teorica rispetto all'approccio multidisciplinare al paziente con un disturbo alimentare grave. Quindi non può essere né solo lo psicoanalista né solo lo psichiatra a curare un disturbo così grave, come non può essere solo il medico nutrizionista, il dietista o l'educatore, ma serve un intervento a più voci. Serve un intervento a più voci. E quindi da qui abbiamo deciso di scrivere questo testo, anche per lasciare una traccia teorica a tutti coloro che si occupano di disturbi alimentari gravi e anche in contesti residenziali, che non sono tantissime le strutture italiane, ma cominciano a essere molte di più rispetto a 15 anni fa. Non ci sono neanche tantissimi studi ho visto, perché questo testo è un testo che raccoglie i contributi anche di gruppi di ricerca universitari, sto pensando ai lavori di Lingiardi e del suo gruppo di ricerca, che hanno mostrato che in effetti non ci sono tantissimi studi sul trattamento residenziale. Quindi è anche abbastanza innovativo questo contributo. Sì, credo che sia uno degli unici testi in questo sintasenso, anche perché abbiamo con Vittorio Lingiardi, appunto la sua collaboratrice Laura Muzzi, abbiamo fatto un lavoro molto complicato che si trova nel testo, molto complicato è stato il lavoro, in realtà l'articolo è abbastanza comprensibile anche ai più, che è stato quello di cercare di capire come il miglioramento in questo tipo di pazienti arrivasse indipendentemente dalle variazioni di peso, perché il 90% degli iscritti, il 99% degli iscritti che si reperiscono in letteratura evidence-based, cosiddetta evidence-based, giustamente devono essere numerabili, no? E quindi essendo numerabili cosa puoi numerare, cosa puoi contare, cos'è fatto di numeri, il BMI, il peso, gli elettroliti, tutti gli esami ematici e così via. Mentre noi abbiamo raccolto la sfida di dire, sì, ma abbiamo delle pazienti talmente gravi, no? Parlo di psicosi. In effetti loro sono molto precisi nel fare una differenza tra la significatività statistica e la significatività clinica. Bravissimo, bravissimo. Loro fanno vedere... Esatto, il tentativo è stato quello di fare uno studio qualitativo, no? Più che quantitativo ed è molto complicato, anche il nostro studio presta al fianco ad alcune critiche inevitabilmente. Però diciamo abbiamo fatto questo studio per cercare di capire, io lo vado dicendo da tanti anni in tutti i convegni a cui assisto, a cui partecipo, ma se noi abbiamo una paziente molto grave con una struttura magari psicotica, schizofrenica, borderline molto grave, so che tu sei un appassionato di borderline, quindi... Sì, infatti ho diverse cose che poi vorrei domandarti. Sono sempre molto interessate sulla tua teoria sui borderline, no? Con l'amica Michela... Milena Montagotti. Che ha scritto anche un capitolo del testo. Quindi un paziente così grave psichicamente che arriva da noi con un BMI di 13, quindi con un BMI con un peso molto molto basso, e dopo sei mesi, un anno di cura, arriva a un BMI di 17, quindi non nella normalità, perché la normalità sarebbe dai 18 ai 24, ma con un BMI di 17 torna a scuola, frequenta le amicizie, riesce a dormire la notte, fa delle cose, magari ha una relazione effettiva. Allora, questa paziente è guarita o no? Questa paziente sta meglio o no? Questa paziente rientra nel cano di normalità, premesso che la normalità esista o no? Quindi questa è stata la sfida di cercare di dare fondamentalmente un nome al numero, perché se noi rimaniamo accecati... Qui tu entri dritto nella questione che mette in luce Recalcati e che anche tu riprendi poi nel capitolo sui disturbi di personalità su i due livelli di singolarità che vengono considerati nel vostro approccio teorico e clinico. Recalcati li nomina come la dimensione esistenziale e la dimensione strutturale. Puoi farci capire meglio di cosa si tratta? Perché in fondo quando poco fa dicevi questa paziente, alludevi mi sembra al nome, al volto, alla singolarità della paziente, ma allo stesso tempo questo non vuol dire che è una serie di eccezioni punto e basta, di incomparabilità che fanno decadere la possibilità di una riflessione clinica accurata. Questo è un testo che mette insieme tanti tipi di vertici osservativi sul problema dei disturbi dell'alimentazione in ambito residenziale, ma secondo me ha la particolarità di tenere tutto vivo, di alimentare il desiderio del curante, grazie a una dimensione veramente vicina all'inconscio, alla singolarità del paziente. Sì, assolutamente. Ciò che Recalcanti teorizza come esistenzialità e strutturalità è proprio quello. Cioè noi ci troviamo di fronte, permettimi una brevissima citazione filosofica, di fronte a fenomeni tutti uguali. Come Kant diceva che c'era il fenomeno e il numero. Il fenomeno era quello che tu vedevi, quello che avevi e il numero era quello che stava dietro il fenomeno, che creava, che poteva creare il fenomeno. Allora, i fenomeni alimentari sono tutti uguali, noi di questo non possiamo non tenerne conto, per cui abbiamo un'assistenza al pasto condivisa, ci sono i dietisti, ci sono i medici nutrizionisti, e ci prendiamo cura dei corpi e dei numeri. Ma il grande sforzo che poi è stato quello che ci ha permesso anche di partorire tutte le teorie che si trovano nel testo, è stato quello di creare un linguaggio comune rispetto a tutti i partecipanti dello staff, pur considerate le diverse formazioni. Scusa, lo prendo un po' alla lunga ma arrivo a quello che mi hai chiesto. No, no, ma abbiamo tutto il tempo per fare il tragitto che ci permette. Ok, quando abbiamo creato questa struttura, abbiamo tre psicoterapeuti di tre formazioni diverse, psicoanalitica lacaniana, cognitivo comportamentale e di psicodramma. E quindi abbiamo due psichiatri che anche loro a loro volta hanno due formazioni diverse, quindi abbiamo dovuto cercare un linguaggio comune. Il linguaggio comune è stato quello che i recalcati definisce della strutturalità, cioè la prima questione è andare a vedere il numero della paziente, la singolarità della paziente e quindi ciò che sta dietro al fenomeno alimentare. e siamo riusciti anche a far convergere, diciamo, tutte le nostre formazioni rispetto alla necessità del sintomo del paziente. Cioè anche gli altri colleghi hanno riconosciuto che il sintomo alimentare per il paziente serve a qualcosa. Scusami Michele, ti stavo ascoltando, ma volevo cercare, perché ho diverse citazioni, ma non avremo credo il tempo, del modo in cui voi avete trovato questo linguaggio comune che attraversa i diversi, diciamo, le diverse... Questo linguaggio comune, sì... E' estratto dalla voce del paziente. Esatto. Tant'è che c'è questo capitolo finale che è veramente prezioso, anche potremmo dire per... Quest'anno il Dipartimento Clinico dell'IRP è stato dedicato al lavoro nelle istituzioni e quindi vari corsi sono dedicati appunto a questo tema. Io nella materia di cui mi occupo ho parlato e parlerò adesso nell'altra parte delle supervisioni, della supervisione come occasione di ricerca. Ed è bellissimo vedere nell'ultimo capitolo dedicato alla supervisione come, a partire dal racconto della storia di vita della paziente, dai detti del paziente, dalla riflessione dell'equipe, dal rimando che ne dà recalcati, come si costruisca un sapere che tu hai definito corale. Ecco, c'è questa dimensione corale che ha a che fare anche con la dimensione del transfert plurale. Quindi, vabbè, stiamo andando forse furitista, però veramente preziosi gli spunti che voi date, perché tu parlavi di diversi orientamenti terapeutici, ma la particolarità del capitolo sugli strumenti di cura e di come vengono messi insieme non soltanto orientamenti psicoterapeutici diversi, ma anche tipi diversi di interventi, dall'intervento socioeducativo a... tra l'altro questi atelier sono veramente fantastici. Io quando ne ho visti alcuni ho detto ma vorrei farlo anch'io con l'atelier. Sì, 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 no, il mio staff è fantastico, sono ragazzi giovani vogliosi, hanno voglia di fare, di imparare, di mettersi in gioco. Io sono felicissimo veramente di poter dirigere queste persone veramente bravissime. Ed è proprio quello, no? Cioè, la finalità degli atelier, di tutto quello che è l'attività, cioè, come posso dire, la linea teorica è ben precisa, la nostra, no? E nasce già da tanti anni fa. Cioè, gli atelier servono ad angosciare il paziente, lo dico nel senso positivo ovviamente del termine. Servono a muovere delle cose. Tra l'altro angosciare nel tuo capitolo tu ti riferisci a Kierkegaard e visci che in fondo, se seguiamo il pensiero di Kierkegaard, l'angoscia c'è quando tu stai iniziando a prendere la tua vita in mano, quando sei in unità di una scelta di desiderio. Kierkegaard parla della vertigine della scelta, no? Quindi quando nel momento in cui tu devi scegliere qualcosa, chiaramente hai uno stato di angoscia, no? Che Kierkegaard poi, vabbè, risolve, fa abbastanza faccio semplicemente con Dio e le nostre pazienti ovviamente hanno ben altro a cui pensare. Però, sì, certo, quindi nel momento in cui le nostre pazienti si angosciano, allora poi noi abbiamo altri dispositivi, che sono i gruppi terapeutici, con i tre orientamenti differenti di cui ti parlavo prima. Quindi tutte le pazienti sottostanno a tutti e tre gli orientamenti, no? Fanno tutte le pazienti, ogni settimana fanno un gruppo cognitivo comportamentale, un gruppo psicoanalitico lacaniano e un gruppo di psicodramma, no? E in questi gruppi vengono raccolte le angosce che vengono mobilitate da un'altra parte, con tutti gli atelier, con le uscite, con i pasti assistiti, anche a volte con la messa della paziente con le spalle al muro, no? Cioè devi mangiare perché se no muori, se no ti devo ricoverare in ospedale, no? Oppure addirittura il ricovero, ti mando in ospedale perché ti devono mettere il sondino nasogastrico. Quindi non è che noi non facciamo medicina, no? Però diciamo l'impronta è quella. Allora nei gruppi... Michele sta dicendo una enorme quantità di cose, in pochissime parole, cioè io vorrei interromperti ogni momento, quando parli dei pasti assistiti, è molto prezioso il punto che voi sottolineate sul fatto. Non si tratta soltanto di iniziare a trovare un equilibrio nutrizionale, ma di ricondurre il paziente a ristabilire un nuovo rapporto con il gusto per il cibo. E credo che sia su quel punto lì anche questa possibilità di passare dal quantitativo al qualitativo. Cioè che voi in ogni singola attività che descrivete, se uno va a vedere, c'è questo passaggio, potremmo dire, dall'alimentarsi allo scegliere di gustarsi il cibo. Sì, perché come è molto evidente, insomma, questo molti studi evidence-based lo sottolineano, le anoressie restrittive, cioè quindi le pazienti che non mangiano, sono soggetti con componenti ossessive molto alte, quindi con un tentativo di mantenere il controllo continuamente. E il gusto è un momento di piacere. È un momento di piacere. È piacere che quelle pazienti non sono più in grado di sostenere. Quindi a volte molti pazienti dicono, guarda, per me non è un problema se mi sveglio domattina con 10 kg in più, ma non fatemi mangiare. Perché il rischio è quello di provare del piacere, non riuscire a gestire questo piacere. Quindi una sorta, adesso lo dico non in senso lacaniano, godimento, un senso di godimento, ma di piacere proprio, tant'è che queste pazienti spesso non hanno relazioni affettive, anche per lo stesso motivo, no? Perché bisogna mantenere l'altro angoscia, qualsiasi relazione con l'altro angoscia. E quindi va tenuta una situazione di controllo assoluto su tutto, soprattutto di anaffettività, no? E quindi il passaggio attraverso il gusto, il piacere del cibo, le angoscia in maniera devastante. A volte più che aumentare le chilocalorie. E quindi anche, e tutto questo, tutto questo impianto non può che passare attraverso il transfer, no? Quindi, io lo dico sempre, l'equip deve funzionare nel tentativo di evitare rapporti simbiotici e diadici, cioè tra un operatore e un paziente singolo, no? Ma bisogna sempre considerare l'ensemble. Ed è per quello che, chiaramente, ne facciamo tantissime riunioni. Ci ammazziamo di riunioni perché deve circolare la parola, bisogna confrontarsi e la decisione che viene restituita al paziente, ipotizzo classica, no? Quella che in tutte le istituzioni posso uscire nel weekend, viene sempre restituita dall'equip e mai dall'operatore. Perché proprio per evitare questa sistemazione. Anche perché è complessa poi tutta la questione, no? Quindi questo è... Ma se ritorniamo su questi due assi, dell'esistenziale e dello strutturale. Sul piano strutturale c'è un capitolo molto denso, profondo, che è allo stesso tempo quasi una storia della psicopatologia, scritto da Recalcati sui casi gravi. Sì. Ci fa attraversare dai lavori di la SEG a quelli di Biswanger e si vede anche la grande mobilità dell'intelligenza di Recalcati in diversi, come dire, filoni, in diverse tradizioni psicopatologiche. E lì Recalcati a un certo punto utilizza la parola borderline e utilizza la parola borderline nel momento in cui sta per distinguere, potremmo dire, i disturbi dell'alimentazione, l'anoressia e bulimia su base neurotica da quella psicotica. In quel momento lì, adesso devo vedere le citazioni, lui parla del fatto che non c'è la possibilità di individuare la questione tra bisogno e desiderio e domanda, ma siamo di fronte a dei soggetti che hanno avuto un altro che è caratterizzato dalla caoticità, dalla frammentazione. Però Recalcati, a differenza di quello che fai tu, non utilizza la parola borderline per individuare un disturbo borderline di personalità. In tutto il testo, anche se vediamo le osservazioni fatte da Lingiardi e dalla sua allieva, si parla della personalità come contenitore, come contesto entro cui inserire il sintomo. Quindi se vogliamo approfondire questa logica strutturale di lettura del fenomeno, che cosa possiamo dire sulle pazienti che voi incontrate? Tu dai molta centralità a una lettura di tipo borderline, tant'è che poco fa parlavi del transfert, del lavoro di equip, e se uno legge il tuo capitolo, che è il capitolo, potremmo dire, introduttivo alla parte del trattamento, tu ci porti per mano e fai ripercorrere a ogni operatore i vissuti che si provano quando si ha a che fare con un paziente borderline. E quel capitolo lì uno potrebbe togliere la parola anoressia, bulimia o disturbi dell'alimentazione, metterci tossicodipendenza, e funziona uguale. Questo è un libro, sì, dedicato al trattamento residenziale dei disturbi dell'alimentazione, ma andrebbe benissimo questo modello che voi avete qui formalizzato, anche per tutte le altre forme di dipendenza patologica. Ritorniamo alla questione del borderline, alla questione strutturale. Tu come pensi che possiamo leggere questa questione qui? Perché è molto delicata dal punto di vista anche della direzione della cura, perché a seconda di come leggo la struttura poi penserò di fare degli interventi o degli altri. Sì, allora, io sono molto più, non essendo un lacaniano puro, come posso dire, ma essendo forse più un recalcatiano, cioè la mia conoscenza di Lacan è attraverso la parola di massimo, sì, ho letto poi tutti i seminari, però insomma ho anche un altro tipo di formazione, io arrivo da una formazione pavese, Petrella de Martis, Psicodinamica, quindi diciamo un po'. E poi sono un grande fan di Kernberg, quindi chiaramente io, adesso dire che sostengo una struttura borderline forse è troppo, però diciamo reputo la struttura borderline una struttura importante. Ecco, forse no... No, tu non parli di struttura borderline, da questo punto di vista sei molto, come dire, pulito concettualmente. Sì, sì. Parli di una personalità borderline e fai vedere che c'è innegabilmente un funzionamento borderline in questo. Esatto, e volevo arrivare lì, infatti. Come dire, la nevrosi e la psicosi non c'entrano niente con quei fenomeni lì. Esatto, esatto. E quindi come tali vanno gestiti, no? Anche perché la fenomenologia borderline è una fenomenologia precisa, cioè strutturata su questo vuoto centrale dove il tuo interlocutore oggi è Dio e domani è il tuo peggior nemico. l'ascissione, no? Che è alla base della struttura borderline, ma è un'ascissione, sì, non intesa psicoanaliticamente come meccanismo di difesa, no? Ma proprio come incapacità di pensiero, che sono due cose un po' diverse, no? E quindi le strutture borderline spesso utilizzano il cibo e ci interessa fino a un certo punto, ma utilizzano soprattutto l'altro e quindi l'equip in maniera estremamente manipolatoria che non è tanto finalizzata all'ottenimento di un qualcosa, cioè non lo so, il classico, no? Se non mi dai le sigarette mi uccido, adesso l'ho esagerata, però questa non è manipolazione, perché questo è un ricatto anche molto chiaro, no? Ma la manipolazione è molto più subdola, perché porta il borderline a cercare di stringere queste relazioni estremamente ambivalenti con membri dell'equip per non abbandonare il sintomo. Perché il sintomo nel borderline è l'unica cosa che illusoriamente, perché poi ovviamente illusoriamente lo tranquillizza, no? Quindi... Allo stesso tempo non è un sintomo che funziona come una compensazione psicotica. No, secondo me no. E' molto preciso, ma anche recalcati nel distinguere, diciamo, questa borderlinizzazione dei disturbi dell'alimentazione da fenomeni francamente psicotici. Non c'è lì il ritorno di un reale forcluso, diremmo in termini lacaniani, e neanche il ritorno del rimosso in termini più classici psicotici. Assolutamente, crediamo, certo, nevrotici. No, no, la struttura borderline è una struttura, a mio parere, estremamente affascinante, no? Estremamente affascinante, estremamente complessa. Per cui, cioè, noi abbiamo tanti casi di psicosi senza i sintomi produttivi, deliria e allucinazioni, per dirla proprio fuori dei denti. Ma sono presenti tutti i sintomi negativi. Sono psicosi bianche, psicosi... Le A, no, di Andre Green, no? Se tu le psicoanalisi degli stati limite, molto interessante, molto preciso, a parte che negli stati limiti anche lui ci mette borderline, pur citando la canna più e più volte. Ma al di là di Green, cioè, noi lo vediamo molto bene, tutte le A, tutti i privativi, astenia, bulian, edonia, affettività, autistica, molte pazienti hanno solo i sintomi della sfera negativa delle psicosi, ma sono psicosi to cure. Cioè, non c'è mai il funzionamento borderline in questi soggetti, no? Sono delle melanconie non scatenate, verrebbe da dire. Eh, sì, esatto, esatto, bravo, perfetto. Direi che sono delle melanconie non scatenate. Tant'è che spesso si confondono a livello psichiatrico con la depressione maggiore, no? Perché con tutto questo ritiro, tutto questo, no, come posso dire, inesistenza dal mondo, no, sottrazione dal mondo, spesso viene confusa con... Invece, i disturbi borderline, potremmo dire, vengono più confusi nell'ambito dei disturbi dell'umore, come disturbo bipolare. Sì, esatto. È da vedere come questa oscillazione tra idealizzazione e svalutazione che mette a dura prova tutti gli operatori che hanno a che fare con questi pazienti, tant'è che tu dedichi un paragrafo al contro-transfert. Tra l'altro, questo è un tema a cui verrà dedicato sempre il Dipartimento Clinico un altro anno dell'IRPA. In ambito lacaniano, parlare di contro-transfert sembra quasi un sacrilegio rispetto al test di Lacan. Però chiunque ha a che fare con certi casi gravi non può dire che no, non ne faccio esperienza. Anzi, il contro-transfert è uno strumento molto prezioso per fare diagnosi e capire a che punto si è della cura. Sì, assolutamente, assolutamente. Io credo poi che il contro-transfert quando lavori in un'istituzione sia molto, molto utile e soprattutto la possibilità di analizzarlo e consapevolizzarlo. E in questo senso, per esempio, la supervisione è fondamentale. La supervisione è fondamentale perché la supervisione, che non è mai la supervisione sulle dinamiche d'equip, diciamo, giusto, perché magari se qualcuno ci ascolta non pensa alla supervisione dello staff. No, la supervisione è la supervisione di un caso clinico particolarmente complesso che ha creato dei problemi all'equip. E non c'è niente da fare. Nella descrizione di questo caso complesso vengono fuori dei meccanismi di contro-transfer perché tolti magari i grandi analisti risolti che hanno fatto tutto il loro... Ma molti infermieri, os, educatori inevitabilmente a volte si arrabbiano con i pazienti, li colpevolizzano, suscitano in loro delle problematiche complesse che fanno rivivere stati di vita, eccetera, eccetera, eccetera. Tante volte anche, diciamo, i cosiddetti operatori non psicolaureati sono quelli che hanno più talento nello stabilire una certa sintonizzazione con i pazienti. Continuo a sostenere l'importanza delle riunioni proprio per questo, perché continuo a dire voi psicoterapeuti, i pazienti li vedete nei gruppi, voi psichiatri li vedete per un colloquio settimanale o due e mettete i farmaci. L'OS ci vive col paziente. H24 gli fa la doccia i primi giorni per tagliarsi i capelli, lo portano fuori, i dietisti vivono col paziente all'esterno della struttura quando fanno i pasti al ristorante fuori per vedere come vanno, mangiare il panino. Cioè, questi ci vivono. E quindi, chiaramente, inevitabilmente, il paziente si fida, si trova in modalità molto più confidenziale con professionisti che non hanno una formazione psicologica. Nelle istituzioni, eh, chiaramente. E quindi questo diventa fuori ero, chiaramente, di tutta una serie di confidenze e anche di rapporto umano. Cioè, siamo esseri umani. Quindi, quando un paziente vive da noi, vive da noi, cioè dorme, vive, mangia lì per un anno, vuoi che non trovi il suo operatore preferito? No? E vuoi che l'operatore LOS che è arrivato... Abbiamo molti stranieri nel nostro staff, no? Che quindi arrivano da contesti culturali anche molto differenti dal nostro, no? Vuoi che a sua volta non trovi il suo paziente preferito? Questo è normale. È normale ed è inevitabile. L'importante è fare qualcosa di questa cosa qui. No? Di questi sentimenti e di questo controtransfer. E appunto per questo, da qui le riunioni, ma soprattutto poi la supervisione, dove queste cose vengono fuori. E Massimo, sia io che te, io ormai lo conosco da 20 anni, è bravissimo nel gestire queste cose, con una delicatezza magistrale, no? Secondo me quello è un tratto unico che lui ha nel toccare, diciamo, nel fare le supervisioni, nel toccare... È un dono. Nell'andare dritto al punto, ma con quella delicatezza che permette di farsene qualcosa delle sue... Sì, 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 sì. E quindi questa cosa diventa sempre... Anche, scusa, una brevissima specifica, ma ci tengo, rispetto a quello che ti dicevi prima, su quale sono estremamente d'accordo, no? Questo abuso della diagnosi di bipolarismo, no? Allora, vorrei... Dico solo questa cosa, poi giuro, mi taccio. No, no, ma dai, sono io che ti interrompo, ma perché ho tante esperienze di sapere, in effetti, alcuni particolari inchiudi che ci sono. Il paziente borderline non è... Quando diventa aggressivo, quando diventa violento, verbalmente, fisicamente, quando diventa auto... La violenza è auto-inflitta, no? I famosi tagli... Non è che è in uno stato di eccitamento, ma è in uno stato disforico, che è una cosa molto diversa dal bipolarismo, che invece è una psicosi. Quindi cosa succede? Che il paziente borderline trasforma quell'angoscia che non riesce a simbolizzare, a metaforizzare, in rabbia, e poi in rabbia espressa. Ma siamo lontanissimi dal bipolarismo. Sì, sì, però Simon ti parla della sequenza disforica nel paziente borderline, e dice che, in effetti, l'affetto-rabbia serve a collocare l'umore disforico, che, potremmo dire, è una condizione emotiva non è agganciata alla relazione con l'altro, e grazie alla rabbia riesce a essere agganciata, potremmo dire, a un oggetto intenzionale. Quindi la rabbia è il tentativo di far passare qualcosa che uno vive a fior di pelle e non riesce a trattare simbolicamente attraverso una relazione. Per questo i borderline, potremmo dire, in termini poco eleganti, sono dei grandi scassapalle, perché hanno bisogno, in fondo, di istituire la figura dell'altro. Capisci che siamo... Tu sei molto preciso, lo ricorda anche Recalcati, come far incontrare a questi pazienti un altro diverso rispetto a quello che hanno incontrato. È un punto dove tu citi appunto dei contributi che sono non soltanto di ambito psicodinamico, ma anche quelli che vengono dal gruppo di ricerca di Giovanni Liotti, e che fanno ben pensare anche a quella che Recalcati chiama la rettifica dell'altro. Per loro, in fondo, con questo passaggio dall'umore disforico all'affetto-rabbia, è come se cercassero di sondare se esiste un altro diverso al loro primo altro, frammentato e caotico. Esatto, esatto. Assolutamente. Capisci che questo li colloca inevitabilmente, adesso per fare un po' di polemica lacaniana, li colloca inevitabilmente veramente a metà strada fra la psicosi e la nevrosi, no? Cioè, secondo me non è né l'una né l'altra cosa. Proprio per quello che stavamo dicendo noi, no? E non sono neanche dei perversi che vogliono soltanto angosciare l'altro, perché in fondo il loro, anche se provocano attraverso l'identificazione proiettiva, e devo dire, Michele, che il modo in cui tu la descrivi è veramente molto raffinato, perché fai capire cosa ti succede quando sei di fronte a un paziente che ti punta la sua identificazione proiettiva addosso. ecco, quella cosa lì non è una manipolazione perversa, è un appello scisso, molto scissionale, anche rispetto all'altro. Assolutamente. Sì. Bene. Voi, Michele, come gestite all'interno dell'equip le scissioni che di solito provocano questi pazienti che a volte raccolgono da un lato quelli che dicono basta, mandiamoli via, e dall'altro invece quelli che dicono no, diamogli ancora un'altra possibilità. Noi abbiamo, siamo un po' scissi anche noi a volte, no? Perché essendo, come puoi immaginare, l'equip per gran parte femminile, abbiamo spesso anche degli istinti materni importanti, no? Cioè, teniamoli qui, dai, tutto sommato, quindi abbiamo questi recovery che non finiscono mai, opposti a situazioni in cui il primo contro-transfer tespulsivo, la frase classica è noi non siamo il posto adatto per lui, no? Possiamo mandarlo ad un'altra panco, il posto migliore, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, no? Quindi, tutto questo viene analizzato nelle riunioni, nelle riunioni di equipe, di micro-equipe e nelle supervisioni, no? Questo dove l'operatore si sente accolto, può, lo dico in maniera poco elegante, ma significativa, può vomitare la sua angoscia rispetto alle difficoltà con un paziente e allora in questo senso veramente l'unione fa la forza, no? Allora, a quel punto l'equipe prende una decisione condivisa che a volte può anche essere quella dell'espulsione del paziente, cioè perché ci sono delle situazioni chiaramente insostenibili, avevamo una paziente che portava dentro della droga e non potevamo tenerla per ovvi motivi, no? Quindi, un'altra che si faceva venire a trovare da delinquenti che non potevano uscire da casa, abbiamo avuto tutta una serie di situazioni veramente importanti, quindi, quindi, però, ecco, la finalità è l'importante che la decisione venga sempre presa in equipe. questo detende mostruosamente le angosce del singolo, no? Sia per, e anche quando serve di mettere un paziente, perché a volte io sono un accanito sostenitore, sono fondamentalmente, il mio segnamento è basagliano, quindi, sono un accanito sostenitore di una sindrome istituzionale e a volte quando tu tieni troppo i pazienti non fai il loro bene, no? Per proteggerli, perché a volte questo controtransfer si sviluppa anche nel senso della protezione, no? Dell'assoluta protezione. noi prendiamo pazienti dai 14 anni in su, quindi, quando hai queste ragazzine senza arte né parte, senza famiglia, magari cominciano a tornare a scuola, eh, però, capito, non le puoi tenere 5 anni per fargli fare tutte le scuole superiori, 4 anni, quello che è, a un certo punto devi trovare una soluzione alternativa sul territorio. Qui apro un altro capitolo che vabbè, apro e chiudo perché è molto veloce, noi lavoriamo in rete, no? Non possiamo lavorare da soli, quindi lavoriamo con le istituzioni, con i CPE, CSM, centri di salute mentale e con tutti gli ospedali che ci inviano i pazienti e poi noi, a nostra volta, reinviamo questi pazienti sul territorio. Poi voi avete anche un centro di urno. Abbiamo un centro di urno di 8 posti che prevede la frequentazione dal lunedì al venerdì e non, però, i pazienti tornano a casa loro a dormire. Sì, sì. Che però, diciamo, l'approccio terapeutico e clinico è più o meno lo stesso. Tu dicevi, scrivevate, Corre Calcati, che in fondo la supervisione è un modo per alimentare il desiderio dell'equipe e proteggerla, appunto, dalla tentazione del maternage, dell'espulsione e della noia. Abbiamo parlato molto di supervisione, tu hai parlato delle riunioni, soprattutto in un altro testo che hai scritto con Erika Minazzi e che è un testo molto bello. Io già lì avevo trovato delle indicazioni preziose e parlavi del ruolo del leader, del direttore sanitario. Poi, mischiando anche, potremmo dire, i due testi, l'altro era uno per uno, uno per tutti. Bravissimo. Sempre nella collana Franco Angeli di Jonas. Com'è che ti barcameni in questo ruolo così difficile? Perché è come se la tua capacità di analisi dovesse tenere presente sia dinamiche istituzionali, anche il rapporto immagino con l'ASL, con gli invianti, ma allo stesso tempo saperti calare, non so se si può dire, empaticamente, anche nel vissuto dell'OS che ti racconta qualcosa del paziente. che cosa bisogna fare per stare in quella posizione lì? Perché... Il vantaggio è che io non vedo i pazienti. A differenza di tante altre strutture italiane dove il direttore sanitario, il leader, quello che imposta l'orientamento clinico, come preferisci, vede i pazienti. Vede i pazienti. Io non li vedo. Non li vedo. Non li vedo per scelta e non li vedo proprio per come è strutturata teoricamente il nostro modo di lavoro. Quindi nel testo a cui tu fai riferimento... Qualcosa di più su questo? Perché è molto indicativo questo. Nel testo in cui tu fai riferimento teorizzo due sistemi, sistema piramidale e sistema labirintico di funzionamento. Adesso non sto qui a ripetere anche perché... No, no, no. E sarebbe utilissimo. No, è che servono gli schemi. Comunque in poche parole insomma il direttore sanitario non vede i pazienti ma i pazienti sanno chi è il direttore sanitario. Quindi io giro per le stanze li vedo le saluto scambio quattro battute ma tutte le volte che mi chiedono un colloquio no? Dottore Stomale la prego la mia risposta è no se rivolga alla sua microchipa. Quindi io non parlo mai con i pazienti raramente con i genitori se ci sono delle questioni legali sì no? E sono molto presente sono molto assente in struttura ma sono molto presente alle riunioni proprio perché il 90% del mio tempo lo dedico a sedare i conflitti tra l'equip tra i colleghi a mettere d'accordo uno con quell'altro a gestire le angosce faccio un po' di psicoterapia di gruppo diciamo così nelle riunioni quindi ascolto le os ascolto gli infermieri il collega che ha litigato con quell'altra con quell'altro che mi dice e allora lì devo sempre distinguere però questo l'esperienza aiuta molto un'analisi personale e l'esperienza aiuta molto devi capire qual è la differenza fra come dicevo prima il vomitatoio quindi a volte arrivano dei colleghi mi vomitano addosso tutto ma io non faccio assolutamente nulla e il giorno dopo questi stanno benissimo non mi chiedono se io ho fatto o non ho fatto e invece a volte ci sono delle questioni da risolvere e allora lì mi applico perché non vedo i pazienti e perché i pazienti sanno chi sono io ma adesso dico io perché la mia esperienza ma potrebbe essere un direttore sanitario qualsiasi con questa modalità come posso dire teorica di approccio perché se i pazienti quando io intervengo con i pazienti è perché lo chiede l'equip quindi io divento uno strumento dell'equip ed è nel momento in cui la situazione è gravissima quindi il paziente che deve essere ricoverato ma non mangia e quindi dobbiamo ricoverarlo il paziente che ha fatto un disastro tipo ha portato della droga ha fatto litigate allora io fai conto che abbiamo aperto questo è il quinto anno di apertura sarà intervenuto cinque volte quattro volte cinque volte e allora i pazienti quando vengono da me quando ti deve parlare il direttore sanitario entrano in una fase di terrore cioè l'ho fatta veramente grossa oppure viceversa mi è capitato che l'equip decidesse che io dovesse andare da qualche paziente a dirle brava sta facendo veramente un bel lavoro oppure ma guardi com'è carina con questo taglio di capelli proprio perché c'era un momento delicato avendo pazienti così giovani soprattutto donne in cui magari ricompaiono le mestruazioni ricompara una sessualità ricompara una femminilizzazione del soggetto allora il direttore sanitario che è appunto Deus ex machina cioè quello che se interviene vuol dire che la cosa allora è importante quindi mi è capitato di fare degli interventi veramente definirei puntiformi e soprattutto mai su mia iniziativa perché poi io non le conosco le pazienti quindi non ho idea di chi sì sento le supervisioni ascolto le riunioni dell'equip e tutto però c'è da dire che io ho una coordinatrice che invece sa tutto ed è perfetta ed è bravissima e gestisce tutte l'equipe qui non sono da solo no anche se il capo è sempre solo questo è un insegnamento che mi è mi è sempre stato molto 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 ben chiaro quindi e poi chiaramente sì come l'hai capito questo cioè che il capo è sempre solo qual è quella solitudine lì cioè come il capo il capo è sempre solo perché sempre per la teoria di cui prima il capo non deve avere delle situazioni di adiche all'interno della struttura no non deve avere un collega col quale si trova meglio non deve dare avere delle preferenze no deve essere odiato amato da tutti allo stesso modo e e poi questo è un insegnamento che mi è stato dato in Bocconi perché la Bocconi da questo punto di vista che se ne dica ma di capi di leadership diciamo così ne sa no ma è un vecchissimo insegnamento che è lodare di fronte a tutti e riprendere in privato no cioè quindi nel momento in cui si fa qualcosa bene è merito di tutti nel momento in cui qualcosa va male è colpa le scavoli no questa è una regola abbastanza no adesso non dico che sia così netta per carità ci mancherebbe altro però sì sì ma però però se vuoi fare se vuoi fare leader nel tuo luogo tendenzialmente sei solo anche perché se ti prendi se ti carichi sulle spalle questa responsabilità poi la devi sapere anche agire no altrimenti devi lavorare in un altro modo però noi abbiamo visto che questa modalità clinica di avere uno strumento fuori dalle righe che non ha a che fare con i pazienti che questa è stata mutuata in tanti anni di istituzione perché io ho fatto il direttore sanitario di Villa Miralago e di Residenza Gruber nei DCA ma faccio il direttore sanitario di strutture psichiatriche dal 2000 quindi questo è il mio ventesimo anno di direzione sanitaria ne ho viste un po' di tutti i colori nelle strutture quindi questa io non ho iniziato così no e forse non finirò così come adesso perché è sempre un divenire i pazienti cambiano la società cambia dei disturbi alimentari di oggi non sono quali di 20 anni fa è inutile prendersi in giro è così come l'hai descritta Michele se volessimo un po' modellizzare diciamo che l'equip o tutti gli operatori la residenza e l'altro che si prende cura del soggetto e la tua funzione è quella non di essere dentro quell'insieme lì dell'altro che si occupa del soggetto ma di essere colui che si assicura che l'altro funzioni come altro per il soggetto esatto perfetto e quindi è come tu quando dicevi faccio psicoterapia di gruppo cioè il tuo compito è non curare le pazienti ma prenderti cura dell'altro che si prende cura delle pazienti esatto e in questo sei solo sì ma mi sembra che la posizione che occupi sebbene sia una posizione da direttore sanitario da manager da psichiatra tutte queste cose qui ha molta a che fare la solitudine di cui parli con il desiderio dell'analista sì certo assolutamente infatti alimentare il desiderio nasce anche da quello il titolo anche perché oltre che il desiderio dell'analista ma la mia funzione è anche alimentare il desiderio dell'equip per esempio quando ci sono le riunioni siccome io non so poco delle pazienti quasi niente entro e inizio a chiedere no non fornisco mai soluzioni perché il tentativo è quello di andare verso questo è il tentativo di Freud psicologia delle masse e analisi naturalmente il transfert va verso il leader quindi i primi tempi mi dicevano cosa dobbiamo fare con questa paziente la dimettiamo la dimettiamo chiamiamo i servizi e io dicevo ma che ne so mai sentite questa paziente decidete voi questo all'inizio scompaginava le carte perché di solito chi decide lo psichiatra in psichiatria ovviamente e quindi la mia finalità è oltre alimentare il mio desiderio di conoscenza ma anche di alimentare quello dell'equip perché quando io arrivo sei molto recalcatiano perché ti preoccupi di custodire il vuoto centrale dell'equip dell'istruzione esatto infatti il testo che tu citavi che ho scritto con Enrico Minazzi riprende molto la questione dell'inaccessibilità del leader quindi del vuoto centrale però mentre il vuoto centrale di cui parlare Calcati nel testo sui quattro discorsi che riprende poi il seminario di Lacan 17 se non si se non erro il vuoto il vuoto centrale che creiamo nelle nostre strutture in realtà poi è raggiungibile no? perché se non lo fosse però gli fai fare l'esperienza di un vuoto centrale sì l'esperienza e gli faccio fare un giro infinito per arrivare al vuoto centrale no? un cammino potremmo definirlo così in senso metaforico un cammino lungo il quale poi pian pianino le soluzioni si trovano forse anche prima di arrivare al vuoto centrale certo che hai una bella responsabilità stare in quella posizione lì perché tu sei responsabile del trattamento di pazienti che non incontri direttamente quindi anche un atto enorme di fiducia verso l'intero l'equipe verso tutti sì sì questo è una cosa che ho imparato a mie spese nel corso degli anni cioè devi devi metterti via posso dire una restituzione narcisistica immediata poi arriva e arriva anche quintuplicata decuplicata ma immediata sì perché e devi e devi veramente trovare delle persone io sono sempre stato molto fortunato un po' perché a volte me le sono scelte un po' perché sono stato anche fortunato cioè quindi non non dico nulla devi trovare delle persone serie che abbiano voglia di entrare in questo meccanismo perché non è facile entrare in questo meccanismo perché anche per l'equipe l'elemento narcisistico è difficile che sia diretto sul singolo per quello che ti dicevo prima no per evitare il rapporto diadico fra paziente e operatore ma è più spalmato sull'equipe quindi l'idea l'idea di fare squadra anche con una buona modalità infatti io sono un accanito sostenitore del team building ma non inteso bocconianamente andare a fare volontariato ma nel senso che due volte all'anno bisogna trovarsi fuori dalla struttura per celebrare qualcosa cioè ci deve essere una metafora non così non basta per celebrare qualcosa e allora in quel caso si va si dà vita li bagioni infinite ci si scherza si ride si fa tutto quello che si deve fare però sempre in un'ottica mai affettiva amicale no ma sempre lavorativa quindi vado un po' contro quello che dice la Bocconi no la Bocconi ho tanti testi che ho letto e tu hai un taglio psicoanalitico nel concepire questo aspetto qui prendi spunto da alcune indicazioni e poi le riformula a modo tuo si 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 poi chiaramente tra l'equip nascono amicizie nascono amori che non puoi che non puoi fermare ci mancherà beato ma va benissimo nel momento in cui c'è un capo espiatorio cioè il leader no che che funziona in questo modo l'importante è che non sia il leader a fare questo ecco perché altrimenti c'è proprio quel problema lì di transfert a due e allora a quel punto lì in un'istituzione come le nostre con pazienti gravi come i nostri inficia il lavoro clinico ecco non c'è una questione morale ovviamente no o è giusto o sbagliato ma inficia almeno secondo noi il lavoro clinico avete in mente altri lavori altri studi prossimi Michele allora stiamo lavorando un testo sull'obesità per far rientrare per far rientrare l'obesità nel DSM cioè comunque nei disturbi dell'alimentazione perché secondo me è folle che non lo sia e quando uscirà questo testo? beh credo 2021 perché dovremo studirlo tra ottobre e novembre bene io ti sono molto grato per il giro che ci ha fatto fare dentro la residenza Gruber poi magari ti chiederò via email una foto così quando pubblicheremo sui canali social di Telemaco questa intervista magari mettiamo anche una foto della residenza dell'equip insieme a grazie tantissimo grazie a te Nicolò grazie buon lavoro ciao